Autocarrozzeria Corsano, allestimento veicoli per disabili e commerciali. L'autocarrozzeria Corsano da molti anni si occupa delle autoriparazioni dei veicoli, ma ha voluto ampliare il proprio campo d'azione ad altri servizi, quali l'allestimento e il noleggio di auto per persone diversamente abili, in collaborazione con l'azienda Handitech, leader nel settore. Vengono eseguiti allestimenti di veicoli commerciali per qualsiasi settore, noleggio auto con doppi comandi per scuola guida, installazione di pellicole per vetri auto ed edilizia, oscuranti a specchio e antisfondamento e in più viene effettuata ricarica a condizionatore e igienizzazione abitacolo. I materiali che vengono impiegati all'interno dell'autocarrozzeria sono tutti esclusivamente a basso impatto ambientale. L'autocarrozzeria Corsano mette a disposizione dei clienti auto di cortesia e offre gestione sinistri in caso di necessità.